Allora, io mi chiamo Federico e lavoro, cioè lavoro, dai, è un'esperienza che mi aiuta. Lavoro allo stand delle piadine al meeting, lì si fa buono da mangiare perché lo faccio io naturalmente. Dai, sono con i miei amici lì, conosco nuova gente ed è bello, si impara a rapportarsi con le persone e così. Ciao